Il film è favorito per Breaking Dawn parte seconda, però oggi è anche la giornata di un film attesissimo di animazione, un film epico, di Peter Ramsey e Guillermo del Toro, si chiama Rise of the Guardians 3D. E se questa serata sarà chiusa con una festa di beneficenza, con un ospite d'eccezione come Sean Penn, l'attore più atteso di questa rassegna, noi abbiamo una piccola esclusiva con il suo doppiatore, quindi il suo alter ego italiano Massimo Rossi, la sua voce italiana in film come 21 grammi, Milk, Mi chiamo Sam, This Must Be The Place. Vediamo cosa ci racconta su questo attore e personaggio straordinario. La ricetta vincente di questi format è quella di mostrare non solo una normalità, ma proprio una straordinarietà quotidiana, fatta di vita all'aria aperta in splendidi ranch americani, fatta di fecondazioni assistite, fatta di extra lusso, fatta di sfide sempre più difficili, affrontate con grande coraggio. Quindi tutta una serie di elementi che noi stentiamo a immaginare in un contesto di persone affette da nanismo, dove piuttosto tenderemo a immaginare uno strato di difficoltà superiore a quello delle persone di statura normale.